Si è corso parecchio per presentare il piano di riequilibrio pluriennale entro la scadenza prevista e ci si è anche riusciti, ma la possibilità di guadagnare un po' di tempo è pur sempre un'ottima notizia per l'amministrazione comunale di Chieti. La proroga, contenuta in un emendamento del Presidente della Commissione Finanza in Senato, Luciano D'Alfonso, concede agli enti locali la possibilità di lavorare ancora due mesi. La prima cosa da dire è un ringraziamento al Presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato che ha predisposto questo emendamento che dà più ossigeno alla città di Chieti, ma sicuramente a tante altre città. Chi come noi è in fase di redazione del piano di riequilibrio o anche chi come noi ha già consegnato il piano di riequilibrio può rimodulare il piano e i tempi si allungano al 30 settembre. L'Aggiunta, gli uffici comunali e tutto il Consiglio ha lavorato in maniera pressante e forte per riuscire ad arrivare al 22 di aprile ad approvare un piano di riequilibrio. Che era la prima data fissata? Che era la data di scadenza della vecchia normativa. Adesso ci rimette in corsa per valutare l'opportunità, nei prossimi giorni lo faremo, anche perché c'è stata una sentenza all'ottanta della Corte Costituzionale che cambia un po' le carte in tavola rispetto al rimborso dell'anticipazione di liquidità. Mentre prima si poteva spalmare, come abbiamo fatto anche noi in più anni, adesso la sentenza, leggendo bene il dispositivo, ti impone di rientrare in tre anni. E questo ci dà forte preoccupazioni. Negli anni passati gli enti in difficoltà, come è stato il Comune di Chieti, ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità per pagare i creditori certi esigibili. Oggi, nel nostro piano, ma come hanno fatto anche gli altri, rispetto a una norma dello Stato, permetteva di spalmarli in più anni. La Corte Costituzionale ha impugnato, ha di fatto sanzionato lo Stato italiano rispetto a questa norma. E quindi questo ci mette, ripeto, in difficoltà, ci crea almeno delle prepressità. Ecco perché, dicevo prima, nei prossimi giorni valuteremo con attenzione sia gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale e sia la possibilità di ottimizzare il piano che è un piano credibile, un piano vero, non perché l'abbiamo fatto di corsa a alcune lacune. Non è nessuna lacuna, è un piano credibile, ma avendo più tempo ci dà la possibilità di affrontare meglio i temi, i problemi. Ecco, ripeto, e poi rispetto alla ricaduta che può avere questa sentenza rispetto al futuro del piano.